Siamo stanchi di promesse non mantenute, siamo pronti ad intraprendere azioni legali per tutelare i pendolari. A tuonare il movimento consumatori di Arezzo dopo l'ultimo rinvio del tavolo che si sarebbe dovuto tenere il 26 marzo scorso tra Regione Toscana, Trenitalia ed RFI. La riunione è stata rinviata dopo Pasqua, ma l'associazione chiede chiarimenti sulle motivazioni di questa decisione. Ci teniamo a ricordare alla Regione Toscana che i continui disservizi e disagi che sono costretti a subire pendolari del Valdarno e della linea Aretina non si risolvono da soli, ha dichiarato Armando Mansueto, presidente del Movimento Consumatori Toscana. Dobbiamo forse pensare che non è una priorità della Regione Toscana il diritto alla mobilità? Lo scorso 19 marzo, come Movimento Consumatori Toscana, assieme al Comitato Pendolari Valdarno Direttissima, siamo stati auditi presso la Quarta Commissione in Consiglia regionale. Da tal incontro speravamo di iniziare finalmente un percorso che potesse portare alla risoluzione definitiva dei problemi che affliggono da anni i pendolari. Ci preme ricordare che la Regione Toscana è il titolare del Servizio di Trasporto Pubblico Ferroviario di Interesse Regionale e Locale, nonché parte contrattuale del contratto di servizio stipulato contra l'Italia. Siamo quindi pronti ad intraprendere vie legali. La disponibilità, conclude Mansueto, deve essere reciproca.